Da venerdì prossimo 17 febbraio, Via dei Tribunali e le strade limitrofe del Centro Antico tornano ad essere pedonali dopo la sperimentazione avviata con successo durante il periodo natalizio. L'amministrazione cittadina ripropone fino al 30 giugno il dispositivo di chiusura al traffico veicolare che sarà in vigore nei giorni di venerdì e sabato dalle 10 alle 23 e la domenica dalle 9 alle 15. La pedonalizzazione interesserà oltre al tratto di Via dei Tribunali compreso tra Via Nilo e Via Duomo, Vico Purgatorio ad Arco, Piazza San Gaetano, Piazzetta San Gregorio Armeno, Piazza Gerolomini, Vico Cinque Santi, Vico Giganti e Vico Gerolomini. L'accesso nell'area pedonale sarà consentito soltanto ai residenti, ai veicoli di soccorso e di emergenza ed al transito dei diversamente abili. È un dispositivo che rientra nel più ampio piano di chiusura al traffico del centro storico e che sarà reso definitivo con i lavori di riqualificazione al Via dalla prossima estate previsti con il grande progetto UNESCO.